Questa giornata è dedicata all'unità d'Italia? Sì, veramente la giornata è il 17 marzo, ma siccome noi lavoriamo con le scuole perché vogliamo incidere sui ragazzi per ripristinare quei valori che noi vecchiarelli ancora manteniamo saldi, e allora essendo domenica il 17 l'abbiamo spostata a lunedì oggi, 18 di marzo. Abbiamo la presenza di autorità civili e militari, quest'anno diversamente dagli altri anni abbiamo deciso di fare un escursus non sui documentari che riguardavano le guerre, ma soprattutto la parte musicale, perché nella storia d'Italia non sono esistite solo le guerre, i militari, le famiglie dei militari che sono rimaste a casa, ma c'è stato un susseguirsi di brani musicali che hanno, come dire, inciso e sono rimasti pietre miliari nell'ambito musicale, nella crescita della nostra nazione. Quindi dobbiamo riscoprire la nostra italianità? Sì, noi stiamo lavorando in questo senso perché ci siamo accorti, penso che se ne siano accorti tutti, che i valori fondanti si sono un po' sopiti, io non dico che sono scomparsi, ma sopiti, sostituiti da altri valori che sono effimeri, però fanno presa sui giovani. Per questo noi, attraverso queste manifestazioni, ma anche andando nelle scuole, a cominciare dalle scuole elementari, spieghiamo ai ragazzi che cosa siamo, chi siamo e soprattutto chi vogliamo essere. Aggiungiamo che nonostante siete in pensione, continuate ad impegnarvi socialmente per la città, ma per tutta l'Italia. Sicuramente, faccio la battuta, dicono che bersagliere 20 anni è bersagliere tutta la vita, però voglio dire, prima di essere bersaglieri in congede siamo cittadini italiani, quindi come cittadini italiani siamo stati cresciuti in una certa ottica di vedere le cose e vogliamo che i nostri ragazzi, quindi nel caso specifico i miei nipoti, perché i figli ormai sono grandi, i miei nipoti abbiano coscienza di chi siamo stati e di chi vogliamo essere. Quanto è importante oggi avere questo atteggiamento di appartenenza all'Italia? Beh, io sono sicuro che è grande questo sentimento di appartenenza all'Italia. Si sta perdendo, si sta andando oltre, cioè si pensa all'Europa, si pensa al mondo e si dimentica di essere italiani. Per quanto mi riguarda, permettetemelo, io sono innanzitutto italiano, il resto viene dopo.